ah sei vai sei tu punto it e vai forte forte sei forte sei forte sei forte sei forte ragazzi mi costate troppo grazie cosa è la base di questa lista che ha detto sempre animation numero 5 perché siete numerati perché così non vi perdete perché così non vi perdete che contano però è sì è tutta la squadra quanti siete formati a vedere siamo sei e quattro dieci e tre tredici quattordici oggi ho l'acqua all'acqua termale ferma ferma scusa ferma sì 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 grazie Grazie.